Ciao ragazzi, ci troviamo al Mena Creek Hotel, come potete vedere adesso ci stiamo rilassando, sono le 6 di pomeriggio, ci stiamo aspettando per mangiare qualcosa e adesso c'è la magia! E' tedesco, poverino, è tedesco! Proviamo ancora New Zealand? Yeah, New Zealand is bad, much bad, Germany is shit. Comunque ci stiamo divertendo, come potete vedere, qua c'è un bel ampio spazio in cui ti puoi sedere, panchine, sedie, tutto, dietro l'hotel c'è un bar in cui puoi ordinare da mangiare, puoi ordinare qualche birra, noi abbiamo giocato a carte prima, abbiamo mangiato qualche patatina, qualche birra, il posto è veramente bello, qua il castello è proprio a due minuti camminando, le stanze sono comode, i bagni sulle mie spalle sono puliti, quindi se passate qua venite! Ciao ragazzi, ci troviamo al Mena Creek Hotel, come potete vedere siamo nella parte frontale, qua alle mie spalle c'è pub, ristorante dove puoi mangiare, infatti noi adesso stiamo aspettando quanto da mangiare, abbiamo fatto conoscenza con alcuni abitanti tipici qua, sono simpaticissimi, molto alla mano, quindi è veramente bello che vieni qua, conosci la loro cultura, il loro modo di vivere, solitamente loro vengono qua, bevono, 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 quindi ci si trova in solitaglia, è un posto molto carino, adesso sta arrivando gente, sono solo le 6 di pomeriggio, quindi aspettiamo! Ragazzi, ci troviamo al Mena Creek Hotel, adesso stiamo ordinando a mangiare, abbiamo appena ordinato qua da mangiare, io mi sono ordinato un bel pesce, qua alle mie spalle c'è il bar dove ordineremo quanto da avere, e qua invece alle mie spalle c'è, ci possiamo sedere, come potete vedere, adesso ho visto che fa caldo, vieni qua fuori, stai benissimo, c'è un po' d'ariettina, almeno stai fresco, ci sono tanti tavoli, c'è gente che sta già mangiando, insomma sono affamato, aspettiamo! Ragazzi, ci troviamo al Mena Creek Hotel, l'ultimo giorno come potete vedere, l'ultima macchinata, adesso sono le 9 e mezza di mattina, stiamo facendo colazione, abbiamo appena finito, buonissima colazione, posso dirvi che il posto è stato stupendo, abbiamo passato due giorni veramente stupendi, molto calmo, perché il posto è molto calmo, ma la gente è veramente simpatica, il proprietario è sempre qua, quindi parliamo anche con il proprietario e tutto, camere comodissime, insomma se passate qua dovete venire, il castello è proprio a due passi, ieri sera abbiamo fatto il tour e serali ci siamo divertiti, venite qua perché ci si diverte! Ciao ragazzi, ci troviamo al Mena Creek Hotel in Hiesville, come potete vedere adesso stiamo facendo colazione, ci siamo svegliati, ho dormito benissimo, i letti sono veramente comodi, camere, ci sono camere singole, doppie, da 3-4 persone, letti grandi, il bagno è fuori da condividere, ma è veramente pulito, adesso qua puoi scegliere, potete vedere, c'è latte, c'è caffè, c'è tè, c'è pane, marmellata, insomma c'è di tutto, giusto per iniziare una buona giornata. Questa postazione è veramente comoda perché vicino qua c'è il castello di Spagna, quindi noi tra poco andremo a vedere, è veramente stupendo, speriamo sia così, e poi è veramente vicino a che questa posizione, quindi è tattica, per fermarsi, se passate di qua, venite in questo Mena Creek Hotel.